www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Quante cose però che abbiamo già vissuto Servirebbe un'altra vita per ricordarsene tutte Guarda, qua c'era sempre uno con i burattini Qui in mezzo? No, forse non era qua E come non è il ricordo che avvelisce le cose? Secondo me erano belle già prima E magari uno se ne rende conto a distanza di tempo Perché durante non stava attento Quante cose però che abbiamo già vissuto a distanza di tempo